Io chiedo da qui e lo chiedo con forza, chiedo al Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedo al Ministro della Sanità di assumere immediatamente, non c'è più tempo da perdere, un provvedimento che rimuova questa situazione intollerabile. Tollerabile è una situazione intollerabile ad incatenarmi davanti a Palazzo Picci, andrò ad incatenarmi davanti a Palazzo Picci perché la giustizia per la mia regione, perché io sono stato eletto Presidente della regione, non per frecchiarmi degli onori di Presidente, ma per servire la mia terra, e io la mia terra voglio servirla! Voglio essere messo nelle condizioni di farlo! Voglio essere messo nelle condizioni di farlo! E se non lo sarò messo nelle condizioni di farlo, mi regherò davanti a Palazzo Picci e parlerò all'Italia di questa regione! Parlerò all'Italia di questa regione!